Oggi voglio parlarti di un accessorio super 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 economico, e questa è la buona notizia, indispensabile sia se fai audio podcast che video podcast. Iniziamo! Ok, sveliamo subito il mistero. Quello di cui ti parlo in questo video è questo accessorio qui, ovvero un braccio snodabile, utilissimo per microfoni, per luci, per tutto quello che ti serve all'interno della tua stanza, del tuo studio, dove registri appunto audio o video podcast. Ti vado a spiegare che cos'è. Allora è un braccio articolato, quindi come vedi ha delle regolazioni, sono tre, ok, che puoi tranquillamente snodare e posizionare come ti pare, quindi lo puoi estendere al massimo, lo puoi regolare in questo modo, cioè ci puoi fare quello che ti pare. Io diversamente da adesso dove sto utilizzando un'altra asta, quando faccio questi video in questa posizione qui o anche quando mi vedi, quando vedi la mia scrivania di taglio, di solito uso questo braccio collegato o a un'asta oppure anche al cavalletto della fotocamera. Perché? Perché ha questo gancio qui, che è molto resistente, il prodotto è veramente solido, è molto resistente, quindi immagina di bloccarlo, ora spero che non si blocchi per sempre qui, immagina di bloccarlo ad un'asta, che può essere un'asta microfonica, può essere un cavalletto, uno stativo, un treppiedi, quello che ti pare. Ok, una volta che l'hai bloccato, grazie a questi giunti snodabili, ok, che come vedi girano a 360 gradi, puoi andare a organizzartelo come ti pare. Io di solito ce l'ho quasi alla massima altezza, perché mi interessa che sia, ti faccio vedere come più o meno lo utilizzo io, ce l'avevo regolato prima ma dovrò regolarlo nuovamente, ma questo non è un problema, ok, più o meno così, in modo tale che dall'alto, non lo vedi o dal basso, arrivi fondamentalmente qui. Questo braccio snodabile, che costa pochissimo, costa circa 17 euro nel momento in cui ti sto facendo questo video, quindi dovresti assolutamente comprarlo dal link che ti metto in descrizione per piacere, a te non costa nulla in più, ma io guadagno qualche spicciolino per il canale, grazie. Ti dicevo, questo braccio snodabile puoi, qui nella parte, diciamo, nell'ultima parte, puoi agganciare, come ti dicevo per microfoni o per luci, puoi agganciare ad esempio questo, per mettergli un microfono, ok, oppure puoi agganciare se il tuo microfono non è handled, puoi agganciare questo, poi ti lascio i link in descrizione di tutto quello che ti sto facendo vedere, ma sono cose abbastanza facilmente reperibili e soprattutto economiche, ma se le compri dal mio link è ancora meglio, ok, per esempio addirittura questo dove metto per esempio dentro il mio Pencil Microphone, quello che sto usando adesso che è un, che cos'è? è un T-Bone SC140, quindi un microfono Pencil, l'ho recensito già sul mio canale e lo inserisco qui e quindi posso far avere, posso far arrivare il microfono dall'alto, dal basso o da dove mi pare, ma come ti dicevo questo microfono è utile anche, perché lo chiamo microfono? Questo braccio però è utile anche se vuoi montare delle luci, ad esempio un pannellino come questo puoi montarlo, mi manca l'adattatore adesso qui quindi non riesco a fartelo vedere, non riesco a montarlo, ma puoi montargli questa luce, puoi montare quest'altro tipo di luce, insomma puoi far quello che vuoi e quindi se ti serve una luce da un lato, dall'altro, dal basso, dall'altro, insomma dove ti pare, oppure vuoi illuminare un prodotto che hai qui sulla scrivania, questo braccio snodabile, orientabile, come lo vuoi chiamare, è assolutamente indispensabile e la cosa bella, per questo te ne volevo parlare, te lo volevo suggerire, e che costa come ti dicevo prima 17€, soltanto 17€, secondo me per la robustezza è veramente indispensabile, io utilizzo prodotti, allora questo video non è sponsorizzato se no te lo direi, utilizzo prodotti della Gravity, utilizzo questo, un reggi cuffie da scrivania, ho un braccio sulla scrivania, un braccio però non regolabile ma fisso, quindi in altezza e poi magari un giorno te lo faccio vedere, o forse l'hai già visto nel video che ho pubblicato un po' di tempo fa sul mio studio per quanto riguarda il live streaming, ti ho fatto vedere anche quel braccio della Gravity, poi non mi ricordo, ah un'asta da terra della Gravity, insomma c'ho diversi prodotti della Gravity, perché? Perché dal mio punto di vista ha un ottimo rapporto qualità prezzo, i prodotti costano relativamente poco ma sono veramente fatti bene. Mi faceva piacere condividere con te questo prodotto perché credo possa essere veramente a questo prezzo poi un validissimo strumento di lavoro, io lo uso sempre, sempre perché grazie a questo a questo gancio che ha, io posso attaccarlo a qualsiasi tipo di cosa, come dicevo prima a un'asta o a uno stativo, a un treppiedi, qualsiasi cosa, io lo posso agganciare e c'ho questo braccio regolabile che posso appunto utilizzarlo come mi pare, quindi questo è uno dei must have, che tu faccia audio podcast, video podcast, questo strumento qui è veramente veramente indispensabile. Spero che sia stato utile questo video, se hai domande, dubbi, curiosità su questo prodotto, su quello che ti pare, commenta questo video e io come al solito rispondo nel più breve tempo possibile. Ok, grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima. Grazie a tutti.